devo farmi filmare sono santone che arriva dal piantone filma 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 fai una foto sì fai una foto per misurare la pressione no ma va dentro diretto va dentro nel catetere è uno spettacolo numero uno giusto va direttamente nel catetere e mi misura direttamente la pressione a scolo spettacolo Andrea troppo bello una figata mi ha fatto la foto Luigi basta direttamente nel catetere andava cazzo che compagnie di ricoglioniti cazzo che siamo ragazzi ma allora è andato in giù un pezzo si adesso appena erano tutti o solo uno no 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 verranno i vecchi e basta adesso l'ho messa di vicino al montese se te l'hai ciulato vengono fuori di una roba strana veniva fuori di qua veniva fuori tutto di qua il fumo fissa vai Sergio e ciao si è paratore no iniziano a mettere tutte le porcherie ciprozzanti si è comodo con le leve così sono di carico l'estero beh questi li devi tenere ma vabbè se è comodo non si è comodo no ho capito ma dopo non si trova quando sei in discesa figaro poi dopo gli fa falli in posse no le leve io le ho spostate soltanto no no però semplice no quando sei in discesa se ce l'hai diritto 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 qua che va eh ma che dopo la parra te lo rolla un po' è bella che cosa non andiamo via più stamattina da qua no oh in bizza rischi in bizza oh il è tak il un po' di giocere che sa già andare cambio di casacca per il pilotone di punta si sa che c'è il mono troppo scarico per lui troppo molle lui impara a spostare quello si è il mono dietro che è troppo molle è troppo molle no non la gomma il mono eh si può tirare io che non sono competente mi sembra un po' troppo molle dietro ritorno no già abbiamo detto tutti la stessa cosa no va bene adesso perchè tanto non è che devi fare adesso non ho come si regola è un po' 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 va bene va bene così su fate andate in moto cazzo ostiii questo è il classico questo è il classico ma questa l'ho fatto quella lì non lo fa eh no ti ha rovinato il coso eh guarda il cinocchio si e eh pum si ha fissato indietro no va bene qua sotto ma andando sotto al colpo qui perchè ha detto qua ma forte anche ma c'è la cosa ecco la cosa prova no però non è ancora accesa no non lo fa questa non lo fa quel lavoro lì dai vediamola forza vedi che c'è uno in mano l'altra c'è due da me c'è due da me c'è dura mi ha tappato mi tocco mi ritraga le tue mi ritraga le tue non è che rimpazzo tutto dopo la smolli mi ritraga le tue no ma è troppo non è male lavora no non ritorno ne meno capite mi ritraga la migliore questa è da zona così non scelgare le tue no davvero è da zona così e per ballare la strada è sbattata